Come ti chiami? Giuseppe Matilde Sally Sosso Quanti anni hai? 12 14 13 12 Come mai indossi la divisa? Faccio calcio Perché pratico ginnastica ritmica Perché gioco a calcio e questa è la mia squadra del cuore Perché faccio pattinaggio artistico C'è qualche campione a cui ti ispiri? Sì, le farfalle, in particolare Milena Bardassarri Rebecca Carlazzi Buffon Messi Quindi ti stai allenando per diventare come lui? No, non posso No, non posso purtroppo Non posso No, dopo 8 anni di fatto questo sport purtroppo ora non lo posso più praticare Come mai? Perché non mi posso più allenare Perché non mi posso allenare Non mi posso più allenare per via di questo green pass La società non mi fa giocare visto che non ho green pass Come ti fa sentire? Che cosa vorresti? Triste Perché non capisco come mai non posso allenare con la mia squadra e con i miei compagni Molto triste perché oltre a non poter vedere più le mie compagne Non posso più fare la cosa che amo di più Triste perché vedo che tutti gli altri miei amici giocano le partite Fanno i vederamenti mentre io non posso Triste perché mi sento sola e non capisco perché non mi posso allenare con le altre ragazze Sono 10 anni che mi alleno Mi sono fermata solo per un infortunio È come se mi mancasse qualcosa Sono disorientata Dal 10 gennaio in Italia a migliaia di bambini sani è vietato praticare sport Senza super green pass non possono entrare in campo, in palestra o in piscina con i loro compagni Sono bambini esclusi lasciati soli e senza voce Ecco perché chiediamo a te campione di parlare per loro Restituiamo insieme lo sport ai bambini Pellegrini Valentino Rossi Roba Draghi Luca Lucaroni Varema Baggio Sofia Goggia Yui Kechi Cannavaro Luci Beranzo Zatteri Nicigne Aiutateci vi prego Per favore Per favore